Abbiamo preso le taggiasche, abbiamo preso le siciliane, le condite, le messe al forno, le denocciolate, la grande di qui, la piccola di là. In realtà le olive sono tante e hanno tutte sfaccettature di aromi diversi. Voi pensate all'olio, che ce ne sono 590 e più varietà, e ogni olio è diverso. Non è che puoi dire che quella è più buona e quella più buona, ma sono tutti diversi. E noi abbiamo fatto una bella commissione di olive per farci un bel pollazzo. Questo è un bel pollo rospantone, bello, pesante, ha i suoi giorni, è bello, saporito e vivo. Quindi ci accingiamo intanto a preparare lui. Io l'ho intanto dato una prepulita, non l'ho prespa a casa, gli ho tolto creste e bergini perché mi piacciono. E come spesso faccio, lo apro. Gli faccio questa piccola insinatura qui. Gli metto le dita dentro. E tiro. Ci sono dentro ancora le sue interiori che noi adesso togliamo potentemente. Tagliamo qui la pelle. Ecco. Così, molto bene. Allora, togliamo perché vedete che il figato spesso ha il fiele e non ci piace. Perché il fiele è amaro. Il figatino pulito ci togliamo l'altra parte di fiele perché comunque dà l'amaro. Ecco. Là. Vediamo. Anche qui ce n'è ancora un pochino. Ecco, questa non è roba tua. Lo mettiamo qui. Ecco. Via. Questo lo mettiamo qui. E il cuoricino. Molto bene. Adesso. Disarticoliamole anche. Gli andiamo a cavallo all'osso. Allora, è ovvio che quando voi prendete i polli, ci sono polli da un euro come i polli da tanti più euro. E' un motivo che c'è essenzialmente il tempo e l'alimentazione e soprattutto come sono stati allevati, dove sono stati allevati. Quindi se un pollo è all'aperto, c'ha la pelle sicuramente più dura ed ha una sua consistenza, ovviamente. Noi adesso separiamo bene coscia e sovraccoscia. Ora, per fare il pollo con le olive, siccome questi sono polli che comunque hanno bisogno di tempo anche per cuocersi, possiamo decidere se fare i pezzi più grossi o i pezzi più piccoli. Io poi, siccome sono un po' fastidioso, il petto non ce lo metto. Quindi lasciamo tutto molto riconoscibile. Ecco qui. Perfetto. Bellissimo. Adesso, maniche di camicia. Dose generosa di olio. Tiriamoci su un tocco di lardo. Eccolo. Questa sua faccia la lasciamo qui. Ne togliamo dunque così. Questo lo mettiamo qui. Chiuso. Poi, togliamo la cotica. Che sia riconoscibile. La mettiamo comunque lì, perché non sai che si spreca, eh. Lo facciamo a pezzetti. Le. Molto bene. Prendiamo Sua Maestà. Fina. Che meraviglia. Ho un piacere, quasi sadico, affettare il guanciale, perché mi dà veramente soddisfazione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Molto bene. Poi rifacciamo un'altra bella fettona. Ecco. Lo mettiamo a posto. Ale. Gli facciamo un giretto, ma tanto poi se lo perde. Ma giusto all'inizio, quando rosolerà, inizialmente, se c'è un po' di questa cosa, vedete, anche solo dalla parte di dove andrà poi a rosolare, male non gli fa. Molto, molto, molto bene. Ale. Intanto insaporitevi. Questa fetta qui la facciamo a dadini. A listarelle, chiamatela un po' come vale. La mettiamo già sul fondo, così. Molto bene. Poi. Due, tre becche d'aglio, anche quattro, perché ci vuole l'aglio in questa ricetta. La. Un po' di peperoncino, che se non ricordo male, è qui dietro. Eccolo qui. Ci ne mettiamo un po'. Un pochino di finocchietto. Un po' di scorza di limone, che non serve ma aiuta. due belle manciate di olive ora, poi si pensa. Mettiamo i pezzi, molto carinamente, dalla parte naturalmente del guanciale, li posizioniamo. Bambini, tutti qua siete benvenuti adesso, eh? Si sente ciccia, vero? I bargigli, la cresta, questo po' di figato che c'è rimasto, mettiamo sopra che so si cuoce troppo. Molto, molto, molto bene. E lo mettiamo lì. Ci mettiamo sopra un pochino di sale. Uno zeppetto di rosmarino, spiumato. Rosolerà. Cuocerà. Lo innaffieremo con un pochino di vino di quando in quando. Lo copriremo quando sarà il momento, ma per il momento va. Se ne parla fra un paio d'orette, eh? Non prima. Fra un paio d'orette. Il pollo con le olive, anzi le olive col pollo perché ce le abbiamo messe in quantità industriali, è cotto. Ed è venuta una cosa a vedersi spettacolare. Adesso bisogna vedere se a mangiarsi lo sarà altrettanto. Spostiamo un pochino. Io sapete che ho una passione abbastanza incontrollata nei confronti della coscia. Ecco. Controlliamo la cottura interna. È un burro. È perfetto? Ma per fare un test adatto, molto semplicemente, ecco qui. Io ho visto qui, vedete questo? Questo era il guancialetto. Che si è ammalvito meravigliosamente. Sto avendo uno squaglio di tonzilla, aspetta due olivette e prendiamole. Eccole qui. Un po' di fondo, sì. Perché il test va fatto bene. Eh, sennò che test è? Mettiamo un pezzettino di ciccia, le olivette qui davanti. E il guancialetto sopra. Molto, molto bene. Sopporterò in silenzio. Buono. Questo mix di olive che ci abbiamo messo, gli ha dato veramente un non so che. E tra l'altro, nel finale, tu senti anche il retrogusto di quella al forno che è particolare, la taggiasca. Insomma, quando si fanno questi doschissimi intrugli, come ci dice, più cementi poi ci trovi. Grazie. 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 Grazie.